Finalmente è arrivato il grande giorno quarto episodio della reaction alle vostre postazioni da gaming va bene a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovissimo video come vi ho detto pochi secondi fa oggi guarderò e commenterò i vostri setup da gaming per chi non conoscesse questa serie io chiedo ai miei fan di mandarmi su instagram la foto della loro postazione e loro mi mandano la foto se vogliono comparire e partecipare al video quindi se anche tu volessi partecipare ad un mio futuro video mi raccomando seguimi su instagram perché nelle storie avverto sempre quando devo registrare un video cosa devo registrare e cosa devi fare per poter partecipare ora però non voglio rubare ulteriore tempo sono stra curioso di vedere quello che mi avete mandato quindi se avete lasciato like e vi siete iscritti al canale direi che possiamo partire let's go cominciamo subito con la prima postazione che ce la manda la signorina serena che oh oh cioè sono già è la prima postazione sono già senza parole bellissima a parte una cosa che subito ho notato è l'illuminazione della postazione che hai curato che è veramente bella nel senso tutti i led che fanno diciamo la forma dei cubi e il coso neon lì a forma di setta dietro il monitor stra bello anche qua la lucina di correggetemi ma iron academy o demon slayer non lo so non guardo quegli anime ma se non erro forse è quella il personaggino non idea fatto sta che andiamo avanti vedo che c'è una tastiera mini col mouse della lo ho già capito che questa ragazza ci dà pesante sui videogiochi il tappetino rgb monitor il microfono che dovrebbe essere quello dell'hyper x con rigorosamente il pelucetto con la bandana in testa demoniaco no ma ti giuro è veramente bella sta postazione veramente veramente bella stra curata stra pulita wow voto 10 proseguiamo con locopelli 46 che mi manda questa fostina molto scura però riesco a vedere che si tratta comunque di una bella postazione c'ha un bellissimo pc almeno da quello che vedo comunque esteticamente molto bello poi le componenti non le so ha due monitor quindi tanta roba vedo il mouse della rog la tastiera che purtroppo con la luce così così buia non riesco a capire bene di che marca ma sembra veramente una bella postazione che poi il case del pc è appoggiato si può su un tavolino più basso quindi è riuscito a sfruttare sulla sua scrivania tutto lo spazio per i due monitor quindi tanta roba molto bello molto bello andiamo avanti con fluid che mi manda un sacco di foto oddio 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 partiamo da questa ok vedo che anche lui due monitor vedo forse una webcam attaccata al monitor centrale le cuffie a sinistra tastiera mouse tappetina rgb l'unica cosa che vedo dietro se zoom sono dei cavi che pendono e già lo sapete che i cavi io non li sopporto qua mi ha fatto anche una foto dall'alto che mi fa vedere meglio tastiera mouse ok ma ha fatto un sacco di foto e poi pure all'interno del pc bella beh avete veramente delle belle postazioni regà vi giuro a parte alcuni che si dimenticano di curare il cable management però avete delle bellissime postazioni vediamo samuela ad esempio cosa ci manda ci manda anche lui una bella postazione con monitor tastiera mouse la tastiera tipo su un tappetino diverso da quello del mouse particolare scelta particolare ma vedo che gioca da play perché c'è la play 5 col pad quindi non vorrei dire una cavolata ma magari sotto quello lì è il case del pc tipo sotto quello sotto la scrivania credo sia il case del pc probabilmente comunque questa postazione anche minimal ma efficace quindi bella proseguiamo con alessandro allora ho i miei dubbi che questa possa essere una postazione questa è sicuramente una bellissima sedia ma nel senso sembra un po' la sedia con cui ho iniziato a giocare io a fare le live quando andavo in salotto con la sedia della cucina però non è una postazione comunque è la cosa più bella che abbia mai visto molto bella questa sedia ikea proseguiamo manuel visco ci manda invece anche lui un set di foto con una postazione che purtroppo non si vede nulla nel senso mi sembra di vedere una scrivania di quello un pochettino incastonate dentro tipo i mobili vedo un mega monitor la tastiera l'ha lasciata a sinistra non riesco a vedere bene non riesco a giudicarla bene non capisco perché la tastiera sia laggiù e non davanti forse perché gioca magari da console e la tastiera la prende solo a volte non ho idea non riesco purtroppo a vedere infatti c'è la foto della play non riesco purtroppo a giudicarla troppo bene cioè vederla così sembra una postazione carina molto bellina però purtroppo è molto scura la foto quindi non riesco a dare un giudizio al 100% andiamo avanti con leo lama che mi manda anche lui una duplice foto allora allora vedo che è un sacco di dispositivi nel senso vedo anche la playstation portatili col gioco di naruto solo per questo hai vinto tutto vedo monitor tastiera forse spunta qual mouse in mezzo alle cuffie ci sono due paia di cuffie la custodia della playstation portatile cavi ovunque c'è da curare un attimino il cable management e l'ordine generale della scrivania posso anche capire perché è così disordinato ma perché la scrivania è un po' piccolina guardate la console l'xbox è lì incastonata il case qua incastonato del pc quindi capisco che ha poco spazio però fidatevi c'è tutte le cose dispositivi validi per riuscire a crearti una postazione molto bella devi solo ordinare un attimino e sistemare i cavi cosa stra importante però per il resto c'è un sacco di cosine sia pc che console che altre mini console gg per te andiamo avanti con pietro che mi manda anche lui una postazione molto piccolina cioè ha dovuto mettere tutto in veramente poco spazio più che altro vedo questa parte della scrivania questa diciamo piccola l che effettivamente li sta un po' in mezzo alle palle cioè io credo che lui per giocare da console perché vedo la playstation si metta con la sedia oltretutto da gaming che ha tipo rivolto verso il monitor staccato tantissimo dalla scrivania per colpa di questa L qua dove c'è oltretutto la ciabatta e diciamo tutto il cable management un po' fatto così comunque vedo che ha una nintendo switch c'ha il monitor stavo per dire il braccio del microfono ma in realtà il braccio di una lampada la console le cuff di realtà tutto quello che gli serve se gioca da console effettivamente vedo anche un pallone sgonfio qua c'è da sistemare un pochettino la stanza e la scrivania però per il resto hai tutto quello che ti serve anche tu proseguiamo con valentino corradini che mi manda addirittura un video aspetta voglio vederlo il video però ok monitor ricurvo con webcam potrebbe anche lui streamare o fare video le casse un tappetino grande che contiene sia la tastiera che il mouse ok poi vedo che c'è il controller della playstation 4 quindi gioca da controller la vedo molto pulita e ordinata comunque come postazione a parte queste cartacce qua che cosa sono etichette non lo so c'è un flauto cos'era quella roba lì le cuffie là in fondo e poi qua c'è il case del pc una cosa che mi fa male al cuore sono quelli che mettono il case del pc cioè proprio il pc lo mettono sotto la scrivania una cosa che a me fa uh stra paura perché ho paura tipo di tirargli i calci o che prenda troppa polvere infatti io lo tengo sopra la postazione sopra la scrivania però gg molto ordinato molto ordinato vedo molto bellina molto bellina mi piace valentino ottimo lavoro ma ma perché la marty mi ha inviato qualcosa ciao giorgia ti stimo tantissimo e sei la mia tiktoker preferita mi farebbe piacere partecipare al video delle postazioni come potrei notare mi manca ancora la tastiera mouse e monitor ma sto comunque facendo del mio meglio per ottenere una postazione da gaming per ello kitty online spero di riuscire nel video grazie mille xd xd io non commento io 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 non posso veramente cioè quando sto registrando un video avere questa che mi manda ste robe ma oh ma cos'è ok proseguiamo per favore con il signor manuel reale che mi manda attenzione più foto ok qua vedo un bellissimo monitor nulla da dire con i led sopra da qua ha ripreso anche un po di più direi il tappetino che al talo utilizza come base del monitor a ci appoggia tipo mi sa anche la playstation come si vede a sinistra ok usa tipo un tappetino da gaming come appoggio diciamo per rendere tutto più soft la zone diciamo di monitor e tutto vedo poi la tastiera mini e basta cioè purtroppo non vedo molto però sembra anche questa piuttosto curata come postazione quindi gg andiamo avanti con lisa tu dove cosa sto vedendo ma questa postazione merita tantissimo ma non tanto per la questione dei dispositivi perché vedo che ha un pc portatile normalissimo ma una collezione sono 242 lattine e ha un pc e non ho un computer fisso ok ma la cosa delle lattine non l'ho mai vista oh mio dio ma quante sono 242 ha tipo creato un muro di lattine dietro al portatile sta cosa mi ha un attimo scioccata madonna lisa collezionista doc proprio bello però cioè strano ma bello carino più che altro mi fa tenerezza ed è bello ammirevole carlo cattaneo mi manda invece queste due foto ok questo è oltretutto un collage di foto carino vedo che ha la collezione di monster in alto quindi ci ricolleghiamo alle lattine di prima della signorina lisa ha il monitor di alzato diciamo su questa base di legno con davanti la tastiera che sembra quella della apple e infatti il pc ok il case il pc è quello della della apple ragazzi il bro il bro c'è i soldi i bro c'è i sordi c'è i sordi qua da curare un po il cable management ma mi sembra una postazione tipo di quelle perfette per chi fa grafica non so perché questa sensazione andiamo avanti con erni 2.0 che mi manda questa postazione da urlo oddio bella bellissima i led sopra le minsole che illuminano tutto dall'alto il tappetino rgb che illumina invece dal basso tastiere rgb mouse braccio del microfono col microfono e il filtro abbiamo il case il mega monitor beh io direi tanta roba questa postazione è veramente pulita curata bella questa è veramente ordinata ora è comunque buia quindi non posso giudicare i cavi e le cose che magari non si vedono però a vederla così mi sembra molto curata quindi gg bella bellissima una delle più belle forse che abbiamo visto oggi poi abbiamo mario09htt che mi manda oh no vabbè no vabbè questa no questa ti giuro mi mi non lo so mi hai riempito il cuore di gioia ti giuro ho visto l'asta del del reggi webcam o del reggi microfono con il telefono perché probabilmente fai le live non avendo la videocamera usi il telefono ma che bella col pc portatile e una vittoria oltretutto il mouse qua il mini microfono ti giuro mi hai riempito il cuore di gioia ma poi bella la scrivania queste sono tutti tipo tutti adesivi figurine robe attaccate sotto che bella ti giuro mi hai riempito il cuore di gioia carinissima bellissima mario veramente bella cioè mostra molto la tua voglia di fare e il fatto che tu ti sia comunque arrangiato facendo magari anche dei sacrifici per prenderti alcune cosine o comunque tu stai comunque utilizzando delle cose che hai per non pagarne altri giustamente perché magari sei ancora piccola non hai tutti questi soldi da investire e ti stai sbattendo appunto con tipo una roba del genere ammirevole non l'avevo mai vista questa cosa qua quindi gg mario e io direi di concludere col signor alessandro che alzo le mani che cosa ho appena visto che postazione della madonna ma poi scusa ma è sotto al letto c'è tipo quei letti al castello che hanno il sotto cosa che io sognavo da piccola dove ci puoi metti la scrivania e ci fai la postazione oltretutto scrivania gigante ad elle che sembra quella dell'ikea potrebbe essere quella dell'ikea le due le due diciamo scrivania unite doppio monitor microfono attaccato all'asta tastiera mouse tappetino il pc con oltretutto davanti anche il volante quindi fa anche giochi di macchine quindi tipo formula 1 ma la la griglia per appoggiarci diciamo le periferiche tipo il pad il mouse le scatole sopra abbiamo delle funk pop ti giuro no raga questa postazione è bellissima no sta postazione veramente merita tantissimo complimenti veramente bella sembra di quelle tipo che trovi su internet veramente veramente bella alessandro complimenti complimenti veramente ottima e anche questo quarto episodio della reaction alle vostre postazioni da gaming si può reputare concluso come al solito mi avete strastupita ma anche fatta sorridere con qualche troll vi ricordo che se voleste partecipare al prossimo episodio di questa serie o anche altre serie che pubblico qua su youtube mi raccomando seguitemi su instagram perché vi aperto sempre di quando devo registrare cosa devo registrare e cosa dovete fare voi per comparire all'interno del video come al solito però ora vi comunico che siamo giunti al termine di questo video quindi mi raccomando spolliciate e commentate come dei pazzi noi ci becchiamo mercoledì in un nuovissimo video bella ragazzi noi ci becchiamo ultime